Salernitana in campo questa sera alle 20.30 al Cabassi contro il Carpi per il terzo turno di Team Cup. Granata, che dopo aver superato otto giorni fa l'Alessandria Allarecchi con il risultato di 2-1, proveranno a battere anche gli Emiliani per regalarsi la suggestiva sfida con il Torino, in programma nel turno successivo. Un impegno che Bollini non vuole sottovalutare come ampiamente dichiarato, anche se la priorità rimane sempre il campionato. Per questo motivo si affida alla migliore formazione del momento al netto di qualche defezione legata ad una condizione non proprio ottimale di alcuni elementi. Dunque, rispetto alla gara vinta contro i Grigi, torna in campo dal primo minuto in difesa Gigi Vitale, che ha scontato il turno di squalifica. Il Mancino di Castellammare prenderà il posto di Mantovani, adattato in quel ruolo e quindi con palesi difficoltà nel riuscire a contenere gli avversari. Puccino a destra, con Tui e Bernardini a completare il reparto al centro, che vedrà la riconferma di Adam Onis tra i pali. In mediana si registra un'altra novità perché le chiavi della regia dovrebbero essere affidate a Francesco Della Rocca con Signorelli, che si accomoderebbe in panchina così come il neotesserato Minala, che potrebbe entrare a gara in corso. A completare la linea 3 di centrocampo ci saranno i confermatissimi Ricci e Auger. In attacco, pochi dubbi, con la conferma in blocco del Tridente, che vedrà il centro Bocalon, a caccia della seconda rete con la maglia Granata, con Capità Rosina e Sprocati sugli esterni.